Scatman's World Vincere a Catania ragazzi Anche perché la classifica è ancora recuperabile per il secondo posto Tranquillamente per il primo 9 punti della Juve non sono pochi Vai ragazzi E Beppe Bergoghi Vai Fioi Salvio Mandzukic, capo cronera della Serie A con 10 reti Sa, Mandzukic Mandzukic Simbola Mario Dai Fioi Salvio Esce per Salvio Ancora azione spettacolare della C-Milam De Milano Salvio Esce Raui Salvio Incredibile Chi inizia Desciglio Bravo Blind Salvio Mandzukic Mandzukic vede Elcia Elcia non ci arriva Invece sì Elcia Raui Si è svegliato Elcia Segna sempre Stefan Elcia Raui Bravi ragazzi Bravi Buon Milan Buon Milan Però dobbiamo ottenere i risultati ragazzi Li dobbiamo ottenere Calcio d'angolo Ho fatto un po' di cambi Speriamo bene Siamo un po' in difficoltà Però adesso Eccolo qua Appena detto Catania 1 Milan 1 Incredibile Lo capisci subito Quando prendi i gol Ma che schifo Ma che schifo Tarap Tarap Attenzione Taravo di far miracolo Incredibile Incredibile Tarap Vai Zapata Non ci credo Non ci credo Offensive Guarda che gol È troppi Pari Troppe Volte Troppe Rimonte Però Vai Montolivo Vai Blind Ti prego Buttati dentro Blind Bravo Blind Ti prego Ti prego Salvio Mettila in mezzo E non ci arriva nessuno Ma guarda che sfiga Guarda che sfiga Perché è una brutta partita Per carità del signor Però Ottantesimo Ottantesimo Ve prego Fio Ve prego Non possiamo buttare via Ancora punti Salvio Appena detto Fatalità Salvio Eccola La fatalità La recupera Bravo Recupera Ti prego Vai Zapata No così però Zapata della minchia Butta lassù Stop Sbagliato Stop Sbagliato Beppe Ottantesimo Scoppiare Recupera il palio Ultimi minuti E così Non c'è niente da fare Possibile che non posso segnare Una volta al novantesimo Una volta chiedo Vai Adel Vai Adel Ti prego 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 Adel Ma va a cagare Vai Poli Vai Salvio Sfruttiamo la tua velocità Vai Salvio Bravo Salvio Pazzini Poli Tira pazzo Ma puttana merda Ma va a fanculo Che schifo Ragazzi Andiamo con Milan Roma E anche stavolta Purtroppo la seconda partita La devo registrare Con l'audio Non in diretta Perché sempre Io non lo capisco Sinceramente Addirittura Io forse devo fare Qualcosa al firmware Non so Qualc'aggiornamento Con Con il game portable Perché addirittura Non mi è neanche registrato Pezzi di partita Quindi insomma C'è Purtroppo Un po' così Insomma Questo è un po' di big match Perso così Va bene insomma Comunque Dai speriamo bene Quello Roma bisogna vincere Ragazzi Partita difficilissima La quarta e la quinta in classifica Quindi Partita pesante Ragazzi Pesante Con la nostra sintesi Passiamo al secondo tempo Ragazzi Gli Aic De Rossi Nangolan Il Nango Il Nangoi Il Nangolan Per Maikone Maikone Bravissimo Esce Saturday Esca 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 Se ne va Esca Se ne va Esca Se ne va Tiro di Esca Fuori mamma mia mamma mia De Santis rinvio recupera Salvi incredibile recupera Salvi incredibile Salvio Salvio con una solo città pazzesca Salvio Salvio tiro De Santis mamma mia Salvio cosa fa però cosa fa Salvio calcio d'angolo Montolivo Montolivo Svettarami gol di Rami dolce Rami dolce Rami 1-0 grande Rami grandissimo Rami 1-0 pesante per l'AC Milan di Milano ragazzi passiamo all'ottantasesimo e come potete vedere siamo 2-0 perché secondo gol è stato perso molto bene ha fatto un gol di Manzo che c'è su superazione di Salvio e ragazzi siamo all'ottantatesimo potete capire la vittoria è arrivata quindi una vittoria pesante adesso la prima cosa che faccio finito questo video è sistemare il game portable perché mi sono rotti i coglioni di questi problemi e spero che c'erano problemi con Windows 8.1 perché lo pensate tutte sinceramente non capisco ma non credo sinceramente e niente questa è una vittoria proprio pesante adesso siamo abbastanza vicini anche alla Juventus però una partita in meno siamo a meno 5 però la Juve è una partita da recuperare e niente ragazzi adesso si parla cioè finisce il girone d'andata e con il ritorno dobbiamo fare tante tante vittorie ragazzi perché dobbiamo assolutamente arrivare al minimo terzi proprio il minimo il risultato è il terzo posto va buono raga un saluto del cumendone veneziano adesso qua sul video avevo la classifica quella è rimasta per fortuna e niente raga un saluto del cumendone veneziano ciao cumendone veneziano cumendone veneziano lo youtuber italiano cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtuber italiano Italiano